Oggi in questo convegno presenteremo un cappotto in sughero espanso da 22 cm realizzato a Castelmovo nei Monti in un intervento di riqualificazione e di ristrutturazione completa di edificio con ampliamento. Il progetto è stato seguito dal punto di vista energetico dall'ingegner Benassi e ha la caratteristica di avere un pannello da 22 cm di sughero espanso con rasatura e il tutto completato con un sistema cappotto totalmente naturale a base calce. I vantaggi sono sicuramente legati alla durabilità del materiale e alla qualità dell'immobile che assume un'ulteriore valenza grazie all'ausilio di questo materiale nobile. Consideriamo che grazie a una legge provinciale l'utilizzo di questo tipo di materiale ha permesso l'aumento di cubatura perché il materiale ha delle certificazioni per la sua sostenibilità ambientale e quindi è stato di ulteriore aiuto alla proprietà, alla committenza. La stessa versione di materiale semplicemente in una tipologia più densa può essere utilizzata anche come cappotto isolante faccia a vista in sughero sempre, quindi dando al progettista un elemento estetico e funzionale su cui giocare anche in fase di progettazione.